Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video ci occuperemo di prendere gli input dal giocatore e trasformarli in effettivo movimento nel nostro GameObject Player. Tutto questo lo faremo tramite degli script in C Sharp che ci accenderemo a creare praticamente a breve. Per creare degli script creiamo innanzitutto una cartella chiamata Scripts dove all'interno metteremo tutti i nostri script in modo tale che avremo sempre il tutto il più possibile ordinato. Creiamo uno script chiamato PlayerMovement e doppio clicchiamolo in modo tale che l'idea di Visual Studio si possa aprire. Per effettivamente far muovere l'oggetto bisogna riferirsi al suo Rigidbody che abbiamo aggiunto nel video precedente. Quindi scriviamo una variabile Rigidbody2Dbody e nella funzione Start otteniamo il reference al Rigidbody che ha dato al nostro oggetto. E questo si fa tramite la funzione GetComponent. In questo modo quindi abbiamo immagazzinato all'interno del contenitore Body il nostro Rigidbody di riferimento. E possiamo quindi agire su questa funzione per ottenere e per influenzarne il movimento. Adesso dobbiamo inserire all'interno dei Update che è il nostro ciclo le funzioni che ci permettono di ottenere i dati di input rilevati da tastiera o da mouse o da qualsiasi altra forma di input e trasformarli quindi in movimento per il nostro giocatore. Siccome a me piace sempre creare le cose il più possibile ordinate creiamo una funzione nuova chiamandola Movement e qui prendiamo i nostri valori che ci servono per applicare il movimento. Creiamo quindi due variabili tipo float nel quale inseriamo tramite la funzione GetTaxisRow della classe input le informazioni relative all'asse orizzontale e all'asse verticale. queste informazioni ci permetteranno di capire se effettivamente i tasti sono stati o meno cliccati e la cosa molto comoda della classe input è che questi verranno rilevati in qualsiasi sia l'asse della periferica di gioco che sia se una tastiera che sia se un joystick e tutte queste informazioni si possono settare nelle settings di Unity. Adesso creiamoci un vettore di tipo 2D Vector2 chiamiamolo Movement e immagazziniamo al suo interno le informazioni dell'input. Adesso per applicare il movimento dobbiamo semplicemente riferirci alla funzione MovePosition partire dalla posizione di partenza dell'oggetto che la rendiamo tramite Body.Position a dare il movimento normalizzato perché ci interessa esclusivamente la sua direzione e moltiplicarlo per il valore per la differenza fra i due frame in modo tale che abbiamo un movimento il più possibile fluido. Non ci dimentichiamo di inserire la funzione all'interno del ciclo Update in questo modo. Salviamo. Adesso per effettivamente applicare questo script all'oggetto ci basterà trascinarlo e metterlo dentro l'oggetto Player ed eccolo qui. avviamo il gioco e vediamo quello che succede. Io in questo momento sto premendo VSD forse non si vede però il movimento è effettivamente come lo voglio ovvero è fluido però è molto lento. Quindi questo vuol dire che dobbiamo moltiplicare questa direzione di movimento per un fattore è un fattore velocità. Creiamo quindi una variabile di tipo FlowAt e chiamiamola Speed. Io adesso inserisco questo valore 5F perché già quando spesso quando creavo altri giochi mi trovavo bene per questo tipo di giochi top down. Comunque per moltiplicare basterà che appunto inseriamo un altro fattore moltiplicativo proprio come abbiamo fatto per TimeDol DeltaTime e in questo modo il nostro vettore movimento il nostro nuovo vettore movimento sarà influenzato da questa velocità. Vediamo adesso come va. E direi che va abbastanza bene. Però vi sono alcune cose di cui vorrei parlare. Ipotizziamo che io vorrei fare dei test con la velocità vorrei vedere quella che più mi aggrada direttamente dal gioco senza mettermi ogni volta a cambiare lo script. Per fare questo ho due modi. Posso o inserire cambiare diciamo la visibilità della variabile in public in questo modo la variabile diventa accessibile a tutti gli altri script ma diventa accessibile anche nel header. Come potete vedere qui è spuntata la variabile speed che io posso cambiare posso mettere per esempio 8 e questo valore cambierà il mio effettivo movimento come potete vedere infatti è molto più rapido rispetto a prima. Però questo la rende accessibile anche dagli altri script anche in scrittura e questo non è di solito un bene. Di conseguenza è meglio utilizzare un altro metodo che si chiama serialize field che rende il campo semplicemente cambiabile esclusivamente dall'editor. Basta scrivere in questo modo e subito dopo la variabile che c'è scritta dopo è serializzabile quindi nell'editor è cambiabile. Da qui teoricamente non dovrebbe essere cambiata nulla poiché l'editor non percepisce diciamo nessuna differenza quindi noi possiamo sempre modificare la nostra la nostra velocità lo possiamo fare anche mentre il gioco è runtime quindi possiamo fare i nostri test finché non troviamo la velocità che più ci piace. Quindi abbiamo creato il nostro primo script però manca diciamo la rotazione del nostro utente cioè noi vorremmo che il nostro giocatore la nostra sprite segua il mouse in modo tale che possiamo mirare. Per fare questo creiamo un'altra un'altra funzione la chiamiamo void aiming e allora e qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare innanzitutto una cosa trasformiamo la posizione del giocatore in coordinate di schermo per fare questo basterà che che scriviamo ah e l'oggetto var è praticamente un altro modo di dire variabile vector3 scusate e scriviamo camera.main world2 screenpoint e qui mettiamo il vettore che vogliamo trasformare in coordinate schermo che è la posizione attuale del nostro giocatore questo perché vogliamo praticamente fare una differenza fra il vettore posizione del mouse e il vettore posizione del mio personaggio quindi facciamo praticamente quello che vi ho detto scriviamo un altro un altro vector3 come vi ho detto var è praticamente un altro modo di dire vector3 senza usare praticamente il costruttore e scriviamo input.mousePosition meno il vettore che abbiamo creato in precedenza in questo modo abbiamo praticamente la differenza fra i due vettori che possiamo utilizzare per calcolare la rotazione da applicare al nostro oggetto per applicare la rotazione al nostro oggetto rifletiamoci a transform.rotation e mettiamo uguale a quaternion.euler che praticamente trasforma questo vettore che noi inseriamo tra parentesi in un quaternion che è una classe esclusivamente di unity che indica praticamente un angolo new vector3 new vector3 0,0,0 matf atan2 meno dir.x dir.y e moltiplichiamo tutto questo tangente che abbiamo trovato tramite questa funzione per matf che non fa altro che trasformarlo praticamente come dice la funzione stessa da radianti in decimali e chiudiamo il tutto è un po' complicata vi dovete fidare se non sapete un po' di matematica poiché essendo che il nostro gioco è top down abbiamo bisogno esattamente di calcolare l'arco tangente in questo modo e di moltiplicarlo per questa costante che ci permette di avere il valore in decimali quindi così abbiamo trovato la dotazione effettiva che ad ogni ciclo dobbiamo applicare al nostro oggetto per farlo ruotare verso il mouse non ci dimentichiamo sempre di inserire aiming nella funzione update nel ciclo andiamo su unity e testiamo il funzionamento bene adesso come potete vedere la mia sprite segue esattamente il mouse ovunque io vado mi sto spostando con WASD e nel frattempo la sprite ruota verso il mouse perfetto solo che c'è un problema la telecamera non sta seguendo il giocatore cosa che io voglio perché vorrei che il gioco sia sempre puntato sul giocatore per fare questo quindi dobbiamo creare uno script un nuovo script che chiameremo camera behavior nel quale noi inseriremo il codice necessario per far spostare la telecamera nella posizione del giocatore per fare questo ci servirà praticamente riferirsi all'oggetto player all'oggetto player questo lo faremo dichiarando innanzitutto una variabile tipo transform che chiameremo player e poi individuando all'interno della nostra scena l'oggetto che effettivamente ci interessa per fare questo possiamo utilizzare la funzione gameobject.find gameobject with tag fate attenzione perché vi è un'altra funzione che ha praticamente una sola S fra object e with cioè gameobject che vi farà bloccare tutte le cose nel senso che non è quella che utilizzeremo noi e qui inseriremo la tag che è riferita al nostro gameobject noi ancora non abbiamo impostato una tag basterà quindi cliccare il gameobject player andare su tag che ve la troverete praticamente così tag untagged andare su add tag cliccare questo più qui e inserire la tag player molto significativa e gliela assegniamo in questo modo torniamo al nostro script qui quindi potremo inserire come stringa il nome del tag che ci interessa che è appunto player e mettiamo un bel punto transform poiché l'oggetto che ritorna da questa funzione è un gameobject ma a noi interessa un transform perché così abbiamo dichiarato questa variabile adesso all'interno di update dobbiamo effettivamente spostare la nostra telecamera sul giocatore mettere il focus sul giocatore innanzitutto assicuriamoci che effettivamente questo script abbia trovato l'oggetto player questo lo facciamo tramite un if mettendo player diverso da null quindi se effettivamente hai trovato qualcosa fai queste operazioni altrimenti non le fare questo è un controllo che vi consiglio di inserire sempre perché può succedere la qualsiasi cosa quando avviate un gioco e mettendo questo semplice controllo vi evita che il gioco praticamente si blocchi quindi qui creiamo la nuova variabile di tipo vector3 che chiamiamo target position questo sarà un vettore che ci indicherà la posizione della nuova posizione della telecamera e praticamente dobbiamo prendere la posizione del giocatore per tutte le componenti del vettore quindi player position.x player position.y e player position.z solo che qui ci manca una cosa teoricamente è tutto a posto ma in questo modo la nostra telecamera se noi gli assegniamo praticamente la posizione andando ad agire su transform.position e assegnandola praticamente in questo modo vi sarà il problema che la telecamera sarà posizionata esattamente sopra la sprite del giocatore vi faccio vedere praticamente subito innanzitutto assegniamo questo script alla telecamera trascinandolo sempre a solito modo e avviamo il gioco non ho fatto qualcosa l'ho messo lo script sì perché faccio questo modo probabilmente non l'ha trovato vediamo un attimo ok ragazzi scusate praticamente si era fottuto il mio unity riprendiamo dicevamo quindi se facciamo in questo modo vi sono due problemi ovvero che la telecamera si posiziona esattamente sul giocatore vi faccio vedere praticamente qual è il problema come potete vedere non vediamo più nulla questo perché vedete l'oggetto camera come è esattamente sull'aspetto del giocatore per ovviare a questo problema dobbiamo inserire praticamente un offset nell'asse z che sarebbe l'asse blu questo qui che è praticamente quello al quale ci troviamo ora sarebbe un meno 9 quindi mettiamo un bellissimo float offset meno 9 e rendiamolo pure serializzabile in modo tale che è possibile cambiarlo tramite l'editor e inseriamolo qui nella 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 componente z del vettore target position in questo modo abbiamo risolto il primo problema ok il secondo problema è che cioè non è proprio un problema ma è una cosa che a me effettivamente non piace ovvero che sembra che il giocatore non si sposti cioè noi capiamo che il giocatore si sposta soltanto dal terreno perché effettivamente a questa texture è diverso eccetera io vorrei invece la telecamera si sposta piano piano in maniera fluida verso il giocatore prendere le cose un po' più interessanti innanzitutto non ci dimentichiamo di cambiare su camera la projection da perspective in ortografiche perché questo è un gioco 2D e non ci serve la prospettiva ecco qua così potrebbe pure andare bene ma inseriamo questa cosa che è sicuramente più interessante quindi cambiamo dall'assegnare la posizione a utilizzare il metodo vector3 smoothdump quindi transform.position vector3 dot smoothdump questo ha bisogno della posizione corrente quindi transform position dove ti devi spostare a target position poi ha bisogno di un vettore passato per riferimento velocity che lo dichiariamo subito vector3 velocity possiamo mettere tranquillamente vector3 dot 0 che serve un vettore nullo glielo passiamo per riferimento quindi ref velocity e dopo ha bisogno di uno smooth cioè un float che gli sta a indicare quanto velocemente deve effettivamente posizionarsi nella posizione mettiamolo anche qui serializzabile in modo tale che possiamo fare degli esperimenti e trovare quella più efficace questo è il valore che a me piace di più però lo possiamo cambiare tramite l'editor mettiamo qui smooth salviamo e andiamo a vedere c'è qualche errore no tutto a posto ops e andiamo a vedere quello che effettivamente abbiamo fatto ecco vedete adesso quando il giocatore si sposta si sposta in maniera diciamo piano piano la telecamera lo segue ma non lo segue se ci spostiamo tanto effettivamente sembra quasi che la telecamera non è più centrata a me questo effetto piace se non vi piace voi potete agire sul fattore di smooth e ridurlo scusate non aumentarlo ma ridurlo quindi riduciamolo che ne so di 0.1 e così sarà molto veloce oppure lo possiamo aumentare renderlo più lento 0.6 per esempio in questo modo molto più lente in modo tale che non si vede praticamente simula una sorta di cono visivo del giocatore è interessante secondo me questo effetto bene giocate con questi valori spero che il video vi sia piaciuto scusate se ho dovuto mettere in pausa più volte perché ho avuto qualche problema capita purtroppo ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando iscrivetevi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti